Impegno in campionato per la molisana Magnogli a campo basso. Le Magnoglie stanno disputando una partita dietro l'altra. Un calendario fittissimo tra Eurocup e campionato. Nell'ultimo turno, proprio nella competizione europea, le molisane si sono rese protagoniste di un'ottima performance in cui è mancata davvero solo la vittoria. Per la quarta giornata di A1 invece il gruppo affidato a coach Mimmo Sabatelli sarà di scena sul parquet del Battipaglia. In casa della formazione campana, ancora secco di punti e sul fondo della classifica insieme al San Martino di Lupari. Una gara dal sapore speciale per ben tre giocatrici. Si tratta della rosso-blu Stefania Trimboli, delle campane Francesca Baldassarre e Giovanna Smorto. Nell'amichevole precampionato, proprio le campane avevano creato più di un grattacapo alle Magnoglie. Sicuramente il gruppo in quell'occasione non aveva ancora trovato la giusta intesa ed il feeling necessario per vincere, che invece, numeri alla mano, sembra aver trovato in questo primo mese di gare. Il gruppo è in buone condizioni fisiche. Out solamente Emma Giacchetti ha le prese con un problema non ancora risolto. Con palla a due prevista alle ore 18, nella terza domenica di ottobre, a dirigere il match tra il Battipaglia e la Molisana Magnoglie a Campobasso, ci saranno i signori Marco Marzulli, Vincenzo Di Martino e Adriano Fiore.